amici retro gamers benvenuti ad un nuovo appuntamento con i videogiochi del passato quest'oggi devo maledire un utente del forum ngi caos angel perché perché mi ha consigliato un videogioco quando ci siamo incontrati al bigamus a roma abbastanza schizofrenico parte bene e finisce malissimo si tratta di melbourne madness ed ecco qui ragazzi melbourne madness sviluppato nel 1984 e prodotto da tari games il protagonista è la protagonista è questa spera noi dobbiamo comandare questa spera attraverso percorsi fino al gol schivando nemici trappole e quant'altro cercando di non cadere da altitudini elevate altrimenti perdiamo la vita qua che questo cerca di buttarci di sotto attenzione questi sono altri nemici che se ve zompano sopra le perde le fanno perde tempo siamo le vite sono infinite qua l'unico ostacolo il tempo una volta finito il tempo game over non si ricomincia non si continua ma è finito così bisogna ricominciare da capo dal livello 1 in totale sono cinque livelli attenzione dove cazzo stai andando sono cinque livelli santo dio e naturalmente si parte dal più facile fino al più difficile il quinto che è considerato un delirio totale ci sono diversi nemici da dribblare evitare perché altrimenti si e oi e la fai cazzo santo dio ecco se cadete troppo da troppo in alto si infrange la sfera queste sono merde verdi come vedete ecco fatto tipo acido no che vi squagliano all'istante allora scendiamo cerchiamo di raggiungere il gol attraverso attenzione queste onde no gira 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 cazzo piano piano non mi spigne non mi spinge santo dio non mi spingere ok vaffanculo vaffanculo piano piano santo dio piano sta finendo il tempo sbrigati attenzione allo scadere del tempo perfetto ottimo santo dio pianissimo non sembra ma la sfera qua sguscia che è un piacere che cosa sono queste trombe che so le trombe bidonali ah no ci risucchia non lo so o ci distrugge non lo so non l'ho capito affanculo io come faccio ad andare là sotto come faccio ad andare là sotto attenzione ci sono riuscito se smetto di piangere magari dai e dai e dai e sbrigati 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 cazzo cazzo il tempo è finito dobbiamo ricominciare il segreto per finire il gioco impiegare il minor tempo possibile per raggiungere il gol cercando di non farsi distruggere risucchiare la sfera perché possiamo rigenerarci un numero infinito di volte il problema che grande moris stronzo il problema che ogni volta che ci rigeneriamo perdiamo del tempo prezioso e qua come ho detto poc'anzi l'unico modo l'unico modo per perdere è far scadere il tempo qua tutto dritto mamma mia stavo cadendo di sotto l'unico buco che c'era qua confermo quello che ha detto causa angel perché perché anche se il video durerà dieci minuti più o meno io ci ho impiegato due ore e mezza niente qua per forza di vannagli addosso vaffanculo ste merde verdi acidose si ho messo due ore e mezza per finir sto inferno di cristallo piano 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 ah grande 32 secondi d'anticipo rimasti anzi cerchiamo di parlare italiano ok qua niente porca puttana come vedete se cadete da una certa altitudine o la pallina si rompe ecco fatto grazie oppure veniamo storditi vaffanculo oh palla finita con ste trombe ok ci porti oh piano 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 stronzo ci ha sbattuto di sotto attenzione attenzione forse la sfango attenzione forse la sfango no non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo che cosa sono ste cose sono martello facci tua eh ma mi ti fa passare però eh pur io se cado da solo non è cosa buona mi ti fa passare stronzo guarda che maledetti piano piano oh attenzione attenzione no che cosa ho fatto no ah ho perso tre secondi là come un coglione allora qua che cosa abbiamo ok il vuoto non va bene che c'è là sopra un altro vuoto e non va bene un altro buco dai no ma un'altra volta no ha capito che so deficiente quindi mi porta da solo io questi lievito perché non si sa mai io sommeticcio le sti cazzi non mi impiccio risaliamo 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 cercando di non cadere ma che so no fermo no questo c'è dei secondi dei secondi indispensabili dato che l'unico nemico vero è il tempo sì è anche la mia coordinazione tra l'altro perché c'ho la coordinazione di un bradipo non lo so sul fuoco cerchiamo di prendere nel minor tempo possibile tutti questi dona secondi alla fine sono tutti questi schifi che ci danno dei secondi preziosissimi dove vai vieni qua c'è grande sorinato ho acquistato un botto dei secondi qua su perfetto mancavano giusto gli uccelli di rovo che vanno sti pennuti perfetto c'è un nerbecco di diamante cazzo che ci spaccano c'è un uccello che spacca una sfera di vetro vabbè sì ce la fai a scende dai che l'ho sfangata dai che l'ho sfangata grande grande questo è ultimo ultimo livello basteranno questi secondi basterà intanto non fare lo stronzo ok ricominciamo cerchiamo di beccare il buco io con i buchi ne che ce faccio tanto ma con le melme acidose sì vaffanculo riproviamo cerchiamo attenzione grande canestro ottimo cestista niente questo ci rimbambisce ogni volta scendiamo sempre ste pozze ma quante siete vaffanculo vabbè ho capito che cazzo di pavimento è santo dio sguscia tutto manco fossi il principe di terza palo ho preso un palo allora cerchiamo di portare a casa il risultato ragazzi qua è già un'ora e quaranta che gioco non ce la faccio più non ce la faccio più in totale ho giocato due ore e mezza no palo ancora palo ma chi sono cazzo ciao attenzione dribbling su dribbling fermi tutti mi dispiace qua salvo la posizione oh salvo la posizione e me ne fotte una minchia di quello che pensate perché qua il fegato a pezzi ce l'ho io non voi ok no 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 ok piano 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 ok piano dai che ce la posso fare 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 sette secondi no porca troia piano 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 uno dai no palo palo cazzo palo ok con calma ragazzi ce la faccio con calma io la porto a casa me la sento super calda come si dice piano 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 4 3 2 dai è così dai è così cazzo due ore e mezza di tempo per finire questo gioco maledetto creato dal demonio dal figlio del demonio da padre del demonio santo dio cazzo questo era member of madness ho perso qualche anno di vita e mi sono mangiato mezzo fegato nel frattempo non ho fa devo pranzare ma non ho fama a questo punto ringrazio tantissimo tutti voi perché sono arrivato a 307 iscritti al prossimo video ragazzi dai e così alla prossima bella musica Grazie per la visione!